Uno dei linguaggi universali a cui i giovani danno più ascolto è la musica. Shazam è una delle applicazioni più scaricate sui loro smartphone, con ben 27 milioni di utenti attivi all'anno in Italia e più di 42 milioni di tag registrati al mese. C'è un fenomeno a cui invece i ragazzi danno meno ascolto e circa il 21% di loro ne è vittima. Bullismo e cyberbullismo. Nelle scuole italiane questi episodi non fanno quasi mai rumore. Un minore su tre, infatti, non informa nessuno dell'atto subito. Per rompere il silenzio e arrivare all'orecchio di chi spesso non vuole stare a sentire, Telefono Azzurro, in collaborazione con Shazam, ha realizzato Dagli una nota. Il primo social experiment che dà una nota al bullismo. Attraverso la tecnologia offerta da Shazam abbiamo aggiunto la campanella ministeriale presente in tutte le scuole italiane all'interno della Library Mondiale dell'App di riconoscimento musicale. Al termine delle lezioni, Shazam ha riconosciuto in modalità auto il suono della campanella, inviando su tutti i device degli studenti una push notification. Una volta aperta, è apparso un messaggio che permetteva ai ragazzi di chiamare direttamente con un clic telefono azzurro. La campanella dell'istituto si è così trasformata in un campanello d'allarme. Da adesso in poi, infatti, ogni volta che suonerà, i ragazzi si ricorderanno di dare una nota al bullismo e di rivolgersi a chi da sempre li sta ad ascoltare, superando la paura. Il bullismo suona sempre male e va portato all'orecchio di chi può aiutare, come Telefono Azzurro. Il bullismo suona sempre male e va portato all'orecchio di chiudere, come Telefono Azzurro. Grazie a tutti.